Ciao Christian, sono Cole, qui a Las Vegas verso le 11 di sera. Voglio sentirti, voglio che mi Skype qualche volta e ho bisogno di tuo indirizzo perché non ce l'ho. E poi voglio sapere come stai, come va le cose, come va il lavoro, come sta Ramona e anche il bambino per la freddore. Comunque, sono qui nella mia stanza a Las Vegas, mi muovo capello, 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 hat, chapeau. E niente, mi manchi, c'ho una camera adesso, allora, oh sorry, webcam, possiamo Skype, possiamo Skypeare, scompare, Skypeare. E niente, ti amo, ti manco, mi manchi, ragione grosso. E adesso lo spedisco tu in e-mail. Spero che la trovi, spero che ti stai bene. Vuoi vedere la sua faccia? Ciao, more. Bye.